I cavalli mi sono sempre piaciuti, fin da piccolina. Qualche volta ho fatto equitazione, ma non tantissimo. Ho imparato ad amarli, apprezzarli per quello che veramente valgono attraverso mio figlio Mattia, che sono già due anni, quindi ha iniziato sei anni a fare equitazione. E ho visto proprio quanto è cambiato avendo questo rapporto con il cavallo, perché prende più sicurezza in se stesso, si sente più responsabile, perché comunque il cavallo va portato, gli devi dare dei comandi. È meraviglioso il rapporto che si crea tra l'uomo e l'animale, fantastico. Devo dire che è la prima volta che sono qui a Fiera Cavalli a Verona ed è meravigliosa. È molto organizzata. Io, è capitato, sono stata quella di Roma, anche quella è molto bella, ma questa è veramente il top. È enorme, è organizzata benissimo. C'è tutto, c'è tutto quello che puoi vedere. E se entri che sei amica del cavallo, esci che li ami, perché ne vedi talmente tanti, talmente belli, curati. E anche le possibilità di tocarli con mano, di accarezzarli, è veramente fantastica.